Il rapporto con parole è un rapporto recente, ci siamo conosciuti circa un anno fa, però è un rapporto che nei miei sogni vive da tanto tempo, perché è un'azienda che per me è sempre stata un'azienda di grande riferimento, per dei motivi che ho cercato anche di raccogliere in una parola, che è la parola dettaglio. La parola dettaglio si legge, secondo me, in questo prodotto, dove l'estrema semplicità nasconde quasi e a sorpresa rileva la bellezza di questa elaborazione estremamente sofisticata, dove un tubolare di legno molto semplice diventa questo elemento ovalizzato che nel punto in cui io mi confronto con questo oggetto, ne colgo la bellezza, la morbidezza e la raffinatezza. Quindi questo è stato un bellissimo risultato di un incontro felice.